Higuain, l'andare da solo, messo giù da Crivello, calcio di rigore, è indicato in maniera immediata, il dischetto tagliavento. C'è Fischio, va Higuain! 2-0 Napoli, 17 volte in campionato, Gonzalo Higuain! Morbido a Cagliacone, lo rimpallo a favorire Higuain e che si infila Higuain fino in fondo, Higuain! 4-0 Napoli, il poker, firmato Higuain, la doppietta del Pipita e il match questa volta si è chiuso. Tutto troppo facile per il Napoli. Rimposa con Salih Higuain, comunque ha avuto tempo per firmare ancora due volte il cartellino.